Benvenuto nella presentazione del sistema CatchBet. Stai per scoprire il sistema più semplice e redditizio rivolto a tutti gli esercizi commerciali e le sale dedicate VLT? Il sistema CatchBet. Ma prima di iniziare permettimi di presentarmi e di farti qualche domanda. CatchBet nasce nel 2015 da un'idea di Giuseppe Botto e che persegue un obiettivo ben preciso. Offrire in un periodo di grande cambiamento nel settore del mercato delle scommesse sportive e del gioco un sistema facilmente gestibile e che possa essere veramente profittevole per quelle attività che si interfacciano ed offrono i propri servizi ad una clientela composta da scommettitori e giocatori. Ma quali sono i tre principi ed i tre valori aggiunti del sistema CatchBet? Provigioni più alte del settore. Le provigioni più alte del settore fino al 60% settimanale. Formazione. Formazione sull'utilizzo del sistema e l'avvio. Supporto. Avrai al tuo fianco un'attività specializzata nel Da ciò puoi capire che attraverso il nostro sistema ciò che otterrai è Semplicità. Non occorrono assolutamente competenze tecniche o tecnologiche. Ti basterà iscrivere il tuo cliente in un sito, fargli caricare un suo contogioco e, quando vorrà giocare tu incasserai dal suo gioco. Partenza rapida. Anche se non è per nulla difficile utilizzare il sistema CatchBet, per permetterti una rapida partenza. Ti daremo tutto il supporto e la formazione di cui avrai bisogno per ottenere sin da subito il massimo. Vinciamo se vinci anche tu. Profitto. Una volta che tutto sarà pronto potrai avere accesso alle provvigioni più alte sul mercato e, soprattutto, potrai incassare da ogni puntata dei tuoi clienti, anche quando loro non sono dati a giocare. Ma, quanto è il prezzo di tutto questo? Anche se ti sembrerà strano il prezzo per un valore così grande per la tua attività è... Zero. Prova ad immaginare La tua attività Più semplifice Avere più profitto da ogni singolo scommettitore Essere seguito per avviare al meglio l'attività A costo zero Come attivarti? Semplice Clicca sul pulsante qua sotto Ti contatteremo per attivarti Attenzione Questo video viene visto da decine e centinaia di altre tue attività Vuoi arrivare dopo il tuo concorrente? Contattaci subito, è gratis